Nella vasta e avvincente serie di giochi di ruolo di Dragon's Dogma, le vocazioni rappresentano le classi che definiscono le abilità e le capacità dei personaggi. Queste vocazioni sono suddivise in tre categorie principali, iniziale, avanzato e ibrido. Ogni categoria offre una gamma unica di abilità e stili di gioco, influenzando direttamente il modo in cui i giocatori affrontano le sfide nel mondo del gioco. Le vocazioni iniziali sono quelle disponibili sin dall'inizio del gioco e offrono una verità di opzioni per i giocatori. Queste includono combattente, mago, ladro e arciere. Ognuna di queste vocazioni ha caratteristiche e abilità uniche che possono essere sfruttate durante l'avventura. Il combattente è una classe robusta e resistente, specializzata nella difesa e nell'assorbire i colpi nemici. Armato di spada e scudo, il combattente è in grado di proteggere se stesso e i suoi alleati, mentre si trova al centro del combattimento. Con abilità che migliorano la protezione e la capacità di infliggere danni, il combattente diventa una forza formidabile nel corso del gioco. Il mago eccelle nell'arte della magia, offrendo supporto, attacco e difesa attraverso incantesimi potenti. Anche se vulnerabile da vicino, il mago compensa con attacchi magici devastanti e incantesimi curativi. La sua versatilità lo rende una scelta preziosa in qualsiasi gruppo di avventurieri. Agile e furtivo, il ladro si specializza nell'infliggere rapidamente danni corpo a corpo ai nemici. Con movimenti rapidi e attacchi precisi, il ladro è in grado di affrontare anche i nemici più duri. Sebbene manchi di difese robuste, la sua abilità nel causare danni lo rende un alleato prezioso nelle battaglie. L'arciere utilizza la precisione e la velocità per attaccare i nemici a distanza con frecce letali. Evitando il combattimento ravvicinato, l'arciere sfrutta la sua agilità per mantenere la posizione e colpire con precisione i punti deboli dei nemici. Con abilità che migliorano la velocità del tiro e la mobilità, l'arciere diventa un elemento chiave nelle strategie di combattimento a distanza. Le vocazioni avanzate rappresentano una progressione oltre le vocazioni iniziali e offrono abilità più potenti e specializzate. In Dragos Dogma 2 le vocazioni avanzate includono guerriero e stregone. Dunque ora parliamo del guerriero avanzato. Il guerriero avanzato abbandona lo scudo per concentrarsi sul suo puro potere d'attacco. Armato di armi a due mani, come lo spadone o il martello, il guerriero avanzato infligge danni devastanti con attacchi potenti e precisi, con abilità che aumentano la portata e la potenza dei suoi attacchi. Il guerriero avanzato diventa una forza imponente sul campo di battaglia. Lo stregone avanzato è maestro dell'arte della magia, utilizza incantesimi potenti e letali contro i nemici. Specializzato in attacchi magici a distanza, lo stregone è in grado di infliggere danni di vasta portata e controllare il campo di battaglia con incantesimi devastanti. Sebbene vulnerabile agli attacchi, la sua potenza magica compensa ampiamente questo svantaggio. Le vocazioni ibride combinano elementi di diverse classi per offrire un'esperienza di gioco unica. L'arciere magico unisce la maestria nell'uso dell'arco con la potenza della magia. Utilizzando frecce magiche e incantesimi elementari, l'arciere magico è in grado di infliggere danni letali a distanza. Un'abilità che potenziano gli attacchi magici e migliorano la precisione delle frecce. L'arciere magico diventa un avversario temibile per tutti i nemici. Il cavaliere mistico combina abilità corpo a corpo con incantesimi magici, offrendo una gamma di opzioni tattiche ai giocatori. Armata con la duo spear, una lancia speciale, la lancia mistica può infliggere danni a distanza ravvicinata e controllare la folla con incantesimi potenti. Con abilità che potenziano entrambi gli aspetti del suo stile di combattimento, la lancia mistica è una scelta versatile per tutti gli harisen. L'illusionista utilizza l'arte dell'illusione per manipolare i nemici e il campo di battaglia. Utilizzando fumo e incantesimi ingannevoli, l'ingannatore può confondere ed estrarre i nemici, permettendo agli alleati di attaccare con un certo vantaggio. Con abilità che creano illusioni e potenziano le capacità di manipolazione, l'ingannatore è un'aggiunta unica e intrigante al gruppo degli harisen. L'eroe leggendario offre una vasta gamma di opzioni di combattimento, permettendo ai giocatori di adattare il loro stile di gioco alle varie situazioni, con la possibilità di utilizzare tre diverse armi e abilità. Questa scelta offre una flessibilità senza pari sul campo di battaglia. Con abilità che combinano le caratteristiche distintive delle altre vocazioni, l'eroe leggendario è in grado di adattarsi rapidamente alle motivi e esigenze della battaglia. A questo punto ci sorge una domanda abbastanza interessante. Ma si potrà cambiare vocazione durante il gioco? Assolutamente sì, potrai cambiare la tua vocazione visitando una gilda delle vocazioni e selezionando la classe desiderata. Ci sono limitazioni nel numero di abilità che posso imparare per vocazione? No, puoi imparare tutte le abilità disponibili per la tua vocazione, ma dovrai spendere punti e sperenza per andarle a sbloccare. Qual è poi la migliore vocazione per affrontare i boss? Dipende tutto dal tuo stile di gioco, ma le vocazioni con attacche ad aria d'effetto, come per esempio lo stregone avanzato o l'arciere magico, sono spesso efficaci contro i boss. Ci sono vocazioni più difficili da padroneggiare rispetto alle altre? Alcune vocazioni, come per esempio lo stregone avanzato o l'ingannatore, richiedono una maggiore precisione e strategia nel loro utilizzo, ma con la pratica possono diventare molto potenti. A questo punto, avendo fatto luce su tutte le possibilità delle vocazioni che possiamo andare a scegliere all'interno di questo gioco, che vocazione andrai a scegliere? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ci vediamo presto per un prossimo video, vi ringrazio per la visione e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando tutte le campanelle andate a cliccare proprio sulla campanella, quella nera. Vi ringrazio e alla prossima! Grazie a tutti!